e salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco siamo ancora su siphon filter 3 perché ci ricolleghiamo subito al filmato che abbiamo visto la scorsa volta mentre liang singh sta ancora depositando la sua testimonianza ovviamente al tribunale noi invece siamo nei panni di gabriel logan quindi siamo a dublino irlanda cantieri navali mentre lian continua a testimoniare a washington circa la loro prima missione insieme legata a siphon filter gabe è impegnato in irlanda mentre piazzava l'esplosivo sulla ss lorelei e recuperava il documento di carico la squadra dell'emme dell'm i6 di maggie powers è stata attaccata dalla al dalla rm dall'arm in qualche modo la rm ha scoperto che il consorzio vuole scaricare i contenitori virali nel cantiere navale e si è già impossessata di buona parte del carico con il virus gabe sa che non può permettere che neanche un camion esca di lì se la rm mettesse le mani su siphon filter l'europa verrebbe messa in ginocchio muoviamoci i camion rubati dall'era e rem sono il nostro obiettivo distruggeteli con il c4 dividiamoci ricorda i tuoi uomini di non sparare in uno stile ok questi camion sono blindati l'esplosivo deve essere piazzato nel loro punto debole in cima al veicolo ricorda nessuno di questi camion deve lasciare la banchina quindi il nostro obiettivo è impedire che questi camion cominciamo male con nemici e giubbotti antiproiettili insieme che non è una bella accoppiata però una cosa intelligente che hanno fatto su siphon filter è che praticamente se un vostro nemico possiede il giubbotto antiproiettile ma voi sparate a braccia gambe o ovviamente alla testa potete comunque fare il danno potete comunque fare danno quindi è comoda questa cosa perché se vi riparate e sparate ovviamente in una delle parti sensibili potete fare danno cosa che invece negli altri siphon filter non c'era perché se vi ricordate bene negli altri siphon filter se colpite il vostro avversario su braccia gambe o quello che è non non varrà il colpo e comunque verrà fuori la scritta giacca antiproiettile quindi non potrete fare danno ovviamente qui non possiamo abbattere i cecchini quindi dobbiamo necessariamente passare vedete tra l'altro non non abbiamo il colpo alla testa in questo caso perché è fatto apposta ma che cazzo non è morto minchia quanti colpi io ho dovuto sparare ho fatto la cazzata ok qua prendiamo le munizioni qua non mi ricordo se c'era qualcos'altro forse giacca antiproiettile sì perché giustamente oltrepassata questa zona un po' particolare giustamente il gioco ti dice eh ti ridiamo l'armatura allora ecco fa un culo va siamo bloccati trova una via d'uscita maledizione idee eccellente ora devo preparare l'altra squadra tu pensa al camion a ovest beh non è che ci volesse molto ok a questo punto dobbiamo dobbiamo occuparci del camion a ovest quindi se la freccia che vedete lì è il nord madonna oddio ho sparato al container senza rendermene conto no quello è il soldato ryan è morto qui c'è un altro giubbotto ah no fucile da cicchino con silenziatore ma stanno morendo tutti lì c'è il camion ma che cazzo madonna ma che cazzo di mirano oh ma grandissimo pezzo di merda ma c'è ma veramente c'è ma assurda sta cosa c'è completamente assurda signore powers mi ha chiesto di scortarla fino alla sua posizione faccia attenzione questa zona è piena di cecchini vada avanti signore a loro ci penso io logan questo è il mio miglior scassinatore cimbras è un agente dell'MI6 ma non sa sparare un fuoco ti aiuterà a forzare la cassa fuori dagli un fuoco di copertura finchè non ha finito il lavoro ok dai Russell oh porca mi è passato davanti ma che cazzo non ci posso crede ma eh mi sa che non lo posso usare sto fucile qua ok eh si perché quello è il fucile esplosivo che serve per quando c'è troppo casino qui per il momento non si un attimo che qua esatto dovrebbe esserci giacca antiproiettile vedo la cassaforte ma mi serve del fuoco di copertura ho capito ho capito stai tranquillo vai let's go una classica una classica Walton degli M50 no problem porca puttana ogni volta che che non spara ho il contenuto della cassaforte tenga occupati questi bastardi mentre cerco di uscire da qui cioè guarda 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 come non spara guarda guarda c'è gli gira attorno e non spara ecco alla qua è una mira di merda meno male che è un agente un super mega agente guarda oddio gli ho fatto perforare addirittura il coso lol ok ora qui c'era il camion che se non sbaglio partiva no questo no il prossimo mi sa che era ok qua dovrei essere al sicuro in realtà dall'esplosione ok spider che è ottima fa un sacco di danni però noi dobbiamo andare da questo lato esatto esatto qui c'è l'altro camion ora appena scoppia perfetto benissimo e qui questa è stata una missione abbastanza easy senza troppe complicazioni a parte qualche mira sfasata ma niente di niente di eccezionale per cui puntata un po' più piccola ma ci sta ne facciamo qualcuna un po' più lunga un po' più corta ma voglio fare un livello per ogni video in modo tale da essere più ordinato possibile quindi detto questo vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima